Dal 18 al 22 settembre Rimini diventerà la città del rock nel segno di Bruce Springsteen che sarà omaggiato con concerti, eventi musicali ma anche interviste, presentazioni e mostre fotografiche. L'edizione 2024 dei Glory Days, il festival del rock intitolata 25 Years Burning Down the Road è organizzata come sempre dall'Associazione Nebraska in collaborazione con il Comune di Rimini. Siamo particolarmente fieri quest'anno di ospitare Cindy Maisel che è stata corista di quattro tour di Bruce Springsteen in un tour dei Rolling Stones, sarà proprio la nostra ospite speciale. Ci sarà Cisco, l'ex leader dei Modena City Ramblers che insieme a Cindy Maisel farà una bellissima intervista insieme a Luca De Gennaro di Radio Capital al Cinema Fulgor il sabato pomeriggio. Poi avremo ospiti Mike Neugraf della Francia, Hans Ludwigsson della Svezia, Edward Abbiati, un grande folk singer italo-inglese. Abbiamo tanti tanti ospiti. Poi culminerà tutta questa edizione in un concerto speciale dedicato a Max Morrie e a Massimo Cotto a cui dedichiamo questa edizione. Domenica pomeriggio alla chiesa dei Salesiani a Rimini in cui ci sarà il corone con 50 elementi che accompagnerà i vari protagonisti di questa edizione in un concerto che abbiamo chiamato Redemption Songs. E poi naturalmente ci sarà il grande concerto di sabato sera alla Corte degli Agostiniani dedicato alle canzoni di Bruce Springsteen in cui ci saranno vari interpreti tra cui Cindy Maisel e tanti altri accompagnati da una house band completa di fiati, coristi e sarà veramente un grande momento per celebrare questi 25 anni di Glory Days. Un evento che ormai è un classico della nostra programmazione culturale. Questa edizione come tante delle altre precedenti si svilupperà e si svolgerà nei luoghi della nostra cultura. Quindi Rimini si apre e apre le porte al rock, apre le porte alla musica di qualità. Noi siamo contenti, ringraziamo l'associazione Nebraska, sarà sicuramente un'edizione straordinaria.